Nelle Marche si registra il primo decesso legato al coronavirus, ad anninciarlo questa mattina attraverso la sua pagina social lo stesso presidente della regione Luca Ceriscioli. La prima vittima del coronavirus delle Marche, dice, è un anziano di 88 anni con patologie pregresse, deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano. Era stato ricoverato il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone. Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi quari, si legge. Continuiamo a lavorare per fronteggiare l'emergenza con massimo impegno. La situazione nelle Marche è la seguente, l'ultimo bollettino del Gore, se messo alle 20 e 30 di ieri, parla di 35 tamponi positivi nelle Marche, di cui ben 33 nella sola provincia di Pesero Urbino e due nell'Anconetano, con sette ricoveri in terapia intensiva e nove ricoverati al di fuori della terapia intensiva. Le persone in quarantena poi sono salite a 230, tra cui anche diversi medici ed infermieri, venuti a contatto con le persone contagiate nelle prime ore della diffusione del virus. In queste ore le autorità sanitarie locali anche stanno operando attraverso una riorganizzazione interna, accorpando reparti e convogliando i ricoverati verso un'unica struttura per poter recuperare nuovi spazi o disponibilità per terapie intensive, attingendo anche maestranze al di fuori del comprensorio, in modo da fronteggiare al meglio ogni evenienza e necessità possibile dettata dall'evoluzione della propagazione del virus. Quella che è appena iniziata è una settimana decisiva per capire se l'epidemia del coronavirus in Italia andrà verso una curva di tipo esponenziale, ossio verso una crescita incontrollata, oppure se comincerà a mostrare i primi segni di rallentamento. In questa fase è comunque cruciale spingere al massimo le misure di contenimento. Lo indicano i modelli matematici elaborati dal gruppo del fisico teorico Paolo Castorina della sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Università di Catania, in attesa di essere presto pubblicati su una rivista scientifica internazionale.